Assessore, in questo momento la città si ritrova con dei cantieri in due dei posti più frequentati della città uno al quartiere della Perriera, proprio all'ingresso, tra le altre cose un punto da sempre interessato da altri lavori che cosa è successo esattamente ieri e adesso sono iniziati i lavori anche alla Perriera oltre a quelli in centro storico? Diciamo che quelli in centro storico c'è via incisa Corso Vittorio Emanuele, proprio oggi verso l'ora di pranzo sfalteremo quindi in serata sarà aperta, ieri invece abbiamo iniziato i lavori di rifacimento sempre fognario della via Giovanni XXIII anche lì come Corso Vittorio Emanuele da un buco abbiamo scoperto che la fognatura era completamente andata, completamente rotta e quindi il rischio è che anche lì i lavori continueranno per 3-4 giorni, quindi stiamo cercando di ottimizzare i tempi però come ho detto più volte non sono lavori che ci permettono di lavorare 24 ore su 24 come alcuni sostengono ma che hanno dei tempi loro, nel senso che se noi facciamo le spallette della fognatura devono asciugare se facciamo la copertura deve asciugare, se mettiamo il cemento prima dell'asfalto deve asciugare quindi non è che possiamo comunque lavorare continuamente ma abbiamo dei tempi che sono stabiliti proprio dal lavoro stesso che stiamo facendo Questi lavori purtroppo ormai è una costante, vengono sempre fatti ad agosto ricordo ad esempio lo scorso anno sempre ad agosto c'erano dei lavori in corso per il centro storico forse in un momento in cui la città si presenta alla maggior parte dei turisti che arrivano sappiamo che agosto è particolarmente affollato, a Sciacca, non si potevano programmare questi lavori? No, non erano lavori che si potevano programmare, sono lavori io li ho definiti imprevedibili nessuno sa quando una fognatura certamente ha dei problemi, è successo dieci giorni fa oltretutto non è di competenze perché forse qualcuno se lo dimentica del comune di Sciacca ma è Girgentiacque che ha la nostra rete fognare, quindi è Girgentiacque che interviene noi sollecitiamo continuamente quando vediamo che ci sono problemi, quando qualche buco compare mettiamo le transenne immediatamente l'indomani diffidiamo la ditta ma è pur vero che sono lavori imprevedibili, quando succedono succedono, non ci possiamo fare niente anzi auguriamoci che proprio sotto le festività non accadono, se accadono dobbiamo intervenire sempre nella maniera più celere possibile ma non è certamente colpa di nessuno Questi erano imprevedibili ma sappiamo che in città ci sono altre buche e altre voragini ad esempio penso via Cronio, da più di un anno lì ci stanno le transenne avete già diffidato il Girgentiacque ma l'intervento non arriva, che cosa pensate di fare? Lì già ho parlato proprio con gli uffici, con il dirigente Misurac ora con il nuovo bilancio abbiamo previsto noi delle somme quindi finiremo i lavori e poi capiremo se le responsabilità sono del Girgentiacque la debiteremo a loro costi, se le responsabilità sono nostre comunque i lavori verranno eseguiti, tutto questo ci è concesso solo e semplicemente perché abbiamo approvato il bilancio, prima dell'approvazione non potevamo fare nulla